eccociiii siamo ritornati su wolfenstein gioco adatto alle famiglie bello e per niente è difficile ma visto ma scusami vabbè ricarico va best inizio comunque siamo all'interno dell'aeroporto in pratica è l'ultima parte di questa missione il nostro scopo è quello di infiltrarci in un aeroporto rubare un aereo e semplicemente usarlo per scappare oh mio dio che rumore va bene aereo va bene vabbè quello l'hanno visto ma poco importa che tutto muore ok non c'è visto nessuno che è bene l'aeroporto è molto grande devo dire però l'hanno visto non mi morire trick shot attenzione allora l'aeroporto è enorme quindi utilizzerò parecchio il fucile da cecchino ah hanno suonato l'allarme che palle ma hanno già sgamato che tristezza e tu sei stato tu frocio mazzo ecco beh si è stato tu non c'è un problema tanto questa mission possiamo anche farla con l'allarme attivo cazzo mene dobbiamo penetrare mettere appunto l'aereo e scappare molto facile eeeh sembra facile però fidatevi che non lo è weeeh ok allora da questo lato c'è uno ok come potete vedere sto utilizzando ancora parecchio il oh cazzo lo stand che è un'arma della vita proprio perchè fa un sacco di danno eeeh niente ci permetterà di andare molto avanti allora muori allora eccoci qua voi dovete morire tutti quanti quindi vi ammazzo aia muori muori dove l'altro muori muori e vabbè la realtà fa fuori tutti come musk questo è uno degli aia che ruberemo stavo dicendo muori dove cazzo era quel cechino cazzo guardate quanta gente qua è tutta una missione da utilizzare il cechino perchè gli spazi sono molto aperti la mappa è davvero enorme aia oh mio dio troppo ci crepo sul serio non so dove è il cechino andiamo a recuperare qualche kit medico sempre se ce ne siano perchè ci devono essere allora se cerchiamo bene magari ne troviamo uno che fa proprio al caso nostro ok bene eccone uno e qui niente oh che cazzo possibile allora niente di particolare ah e abbiamo recuperato un panzerfaust l'avevamo recuperato nella missione precedente ok va bene dobbiamo trovare quel cecchino perchè mi sono davvero rotto e soltanto per te utilizzerò lo snoper mi fai schifo veramente non so dove ti trovi ma ti troverò e ti ucciderò forse è lì su serio veramente le avevamo già affrontate prima queste guardie bene aia ma perchè sono così coglione ve l'ho dimenticato quella guardia ok possiamo andare a recuperare i kit medici che stanno qui perfetto salviamo perchè abbiamo dimenticato di salvare e vedete come è andata a finire quindi ah son due ah son due mamma mia bagno ecco qua hanno suonato fino a me io si ammazza con la colt ma neanche un onore mamma mia ok allora quel cecchino di merda dovrebbe essere lì morto ok allora ci conviene invece di andare in giro come dei coglioni come stiamo facendo adesso cercare il cecchino che prima ci sparava che quello non è un cecchino vabbè sinceramente non so da dove mi abbia sparato magari dopo rivedere il video lo vedrò e quindi boh apri qui non c'è un cazzo bene dobbiamo andare da quella parte e entrare nella vera e propria base ok per andare a recuperare l'aereo che ci serve rob Julian perché non c'è più nessuno che le abbiamo fatti fuori tutti direi a conna a te a conna Come potete vedere Guardate il cecchino Davvero si rivela parecchio utile In queste situazioni Ma parecchio Qua si sono andati alla pazza gioia Con il redditor Come possiamo vedere Ah non ho fatto Vabbè Andiamo avanti Perché veramente Stiamo perdendo tempo Avendo ucciso la guardia Che prima si trovava qui sopra Possiamo tranquillamente Aprire questo cancello E andare nella base Ehm Quello è uno dei Degli aerei che ruberemo Bella eh Già E l'allarme sta ancora suonando Vabbè Stacchiamolo Apriamo la porta E prepariamoci Un'altra stazione di cecchinaggio Perché arriveranno delle guardie Molto sbarazzine Ma perché si deve aprire così la porta? Che palle Allora dovrebbe arrivare da là Proprio wallhack Stai vedere Dai abbassati Ma stanno arrivando da dietro Cazzo Ok questo non era previsto Ciao Aiuto Ok Va bene Così Ecco le altre guardie Andiamo a check in hard Ok Ok Mamma mia come è shot Come è shot A sto cecchino Non è shot A nessuno Fidate Allora Questa è la Questa è la base aerea Vera e propria Aia Ma come te si parla Aia Ah ah Ho uno di vita Ho uno di vita Attenzione Perché ho salvato il gioco Con uno di vita Sono un coglione Ok Grande me Ho uno di vita Sul serio Andiamo qua Non so dove sia Quel cecchinone di merda Lì dobbiamo andare Sarà complicata la cosa Soprattutto con uno di vita Grande Mamma mia Tutto calcolato amici Tutto calcolato Ve lo devo dire Start No Ecco Ok Allora Visto che ce l'abbiamo Con cui salvataggio Uno di vita Challenge Spero che non ci sia Nessun altro cecchino Prepariamoci a entrare Allora Prendiamo un'arma decente Allora Qua Allora Vedo Dei piedi Lì sotto Quindi Morto Adesso ci servono Adesso Avviamo Perché veramente qua Salvataggio col pulsivo Serve con uno di vita Ok Non c'è più nessuno Ci devono essere Raga Il fatto che non ci sia Non mi fa ben sperare Veramente Lo sapevo Lo sapevo Era dietro la cosa Madonna Ci manca soltanto Che mi ha solo La granata In poca Ok Ancora vivo Uè però Punto Ok è morto Grande Salviamo Lo salviamo Ogni volta che ammazziamo Un nemico Raga Poi Eccoli Allora Senso sparare Ma non so da dove Mori Ma di poca Che ammazziamo un nemico Salviamo Raga Uno di vita Veramente Veramente lo sto facendo Sta cosa Ha difficoltà massima Uno di vita Questi ci fanno L'occhio dei falco Manco non li vediamo Dove cazzo sono Bastardi Ma io non li vedo No Non mi fate Gli scherzi No Non gli scherzi No No Ok Ok va bene Non so dove posso Trovare un medit Veramente non lo so Non ne ho idea Veramente Questo è l'aereo Che dobbiamo prendere Eccolo E' proprio lui E Bene Perché Bene Beh E le guardie Dove sono Stanno qua Ne sono sicuro Raga veramente C'ho lo scago Qua Perché Un solo colpo Mi ammazza Veramente Uno solo E io Non posso farci nulla Perché Sono fatto il coglione Non lo merito Oh cazzo No Non questo Tutto ma non questo Ho trovato Ho trovato i medikit Ho solo 31 di vita Raga Ho solo 31 di vita E se avete sentito La musica è cambiata Perché la musica è cambiata Vi starete chiedendo Perché Sono arrivate Le guardie Non d'elite Di più Allora Si sono paracadutate Le guardie d'elite Cazzo Vuol dire che noi Dobbiamo sbrigarci Dovevamo entrare Nell'altra stanza Ok adesso Salviamo E mo tra poco Dovrebbero arrivare Sono delle guardie Con delle armi Particolarissime Che ti sciottano Però sono Allora Immaginatevi Il cecchino nostro Quello che usiamo Noi di solito Però Sime automatico Ok Quindi Bene E stanno per arrivare A farci un culo Di Veramente dimensioni Abnormi Incredibili Le sento Le sento Aiuto No Don't do it Don't do it Non aprire questa porta Non aprite quella porta Proprio raga C'ho 40 di vita Due colpi Mi fanno questi qua State a vedere Veramente Questi qua C'hanno l'occhio di falco Perché sono in difficoltà massima Quindi ci vedono subito Ecco le stanno arrivando Madonna Senti i passi raga E come faccio A fare sta missione Come faccio A fare sta missione Sì vabbè Ma sono 3000 Ma stanno arrivando Ecco Madonna Le sentite i passi Le sentite i passi Siamo morti Yeah Aiuto No raga Veramente io non volevo Fare sta parte Con sta vita Pensavo che sarebbe Stato facile Invece Ecco ne una Oddio Mi ha visto E' una guardia Stronza quella là Oddio Sono due No No E vabbè Ma camminate Bastardi Proprio C'hanno Un cecchino Cecchino Semiautomatico Chiamato FG42 Questo qui Ecco Due colpi Avete contati Le avete contati Due Colpi Da qui avremo Un attimo Una visuale migliore Perché L'aereo Si sta preparando Al lancio Però Sono arrivate Le truppe D'elite Avete visto Le armi Che ci avevano Erano Veramente Devastante Ok L'aereo è pronto Al lancio Che è buono Ok forse sono entrati Non lo vorrei Veramente raga Non è la prima volta Che le incontreremo Queste guardie Non è la prima volta Queste guardie diventeranno Delle guardie normali Aiuto Ah No No Don't do it Don't do it No I'm virgin Ah ma questa è una guardia normale Oh cazzo Ok 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 Siamo pronti ad essere spanati Là no Era una sola Sono una merda Erano guardie normali Dove sono le guardie delict Super Quelle che piacciono a me Ok Vabbè Noi salviamo tanto comunque 34 40 di vita Ebbene Ok Allora Tu Apriamo e prepariamoci a sparare Ok no Non c'è nessuno Raga veramente qua mi viene il cagozzo Ve lo dico Diamo benzina Diamo benzina Che forse non l'abbiamo fatto Così L'abbiamo fatto Ok Abbiamo effettuato i fotocolli di lancio Adesso dobbiamo andare sopra Per fare la terza parte Il problema è che qua è pieno di ste guardie di merda Ma come cazzo faccio? Allora se questa qua è per aprire Dobbiamo andare sopra E poi tornare qui giù È tutto quello che dobbiamo fare Però se sentite stanno arrivando E sono incazzatissime Che palle Perché devo fare sta missione? Non potevo stare a giocare a Pokemon Go Porca troia No raga veramente non so come comportarmi Eh vabbè Eh vabbè Dai ci perdono da dietro Cioè Poi dite Eh vabbè ma sto gioco del 2001 Mica c'ha tutta sta intelligenza artificiale Poi ti vedi questo Ok Ci servono dei medikit Effettivamente Io mi ricordo che prima Due guardie ci sono venute a prendere da di dietro Proprio ci hanno fatto un culo di dimensioni epiche Dalla serie B Però Con questo stand dovrebbero andare giù relativamente velocemente Però Finchè vanno giù Noi moriamo Un problema Allora lì c'era una guardia Eccola Adesso noi andiamo a prenderci Dove cazzo sono? Bastarde Io c'ho paura che mi vengono da dietro Come hanno fatto l'altra volta Oh madonna aiuto Aiuto Ma avete visto che culo m'ha fatto con la guardia? Mori C'ho 4 di vita Non salvo mai Non salvo mai Io ve lo dico Allora Per farvi un po' la recensione di quest'arma Eccola qua E' un mostro Cioè veramente spara Ha un razzo di fuoco incredibile Spara dei proiettiloni immensi E ci fa un culo a strisce Cioè Boh Ah perché Perché devo giocare a sto gioco? C'ho 4 di vita Che devo fare? Mi sciottano Allora Vabbè Sapendo adesso dove più o meno dove sono Potevo intercettarle Ma c'era un problema Avevo 1 di vita Quindi Non credo di essere da solo qui sopra Sapete? Che poi pure la musica ci si mette Devo dire Guarda Io sono sicuro che ce n'è un'altra Non so dove Non so quando Andiamo qui sopra Allora Io ho 4 di vita Quindi non dovrei stare a fare queste cose Infatti penso che se muoio Amen Rifaccio tutto Dei medikit Però io so che lì dietro c'è qualcuno Muori Mamma mia Che goduri usassi di medikit Veramente Ci abbiamo di nuovo 34 di vita Quindi bene Ok Allora Avviamo Allora abbiamo fatto questa procedura Questa Adesso dobbiamo fare questa E quindi dobbiamo tornare giù Con le guardie che staranno su Quindi Bene Però se entriamo nel cobra Andrà tutto perfettamente Noi salviamo Nel dubbio E continuiamo questa missione Al limite dell'umano Proprio Perché veramente Boh Mamma mia è alto davvero Sto gioco può caricare Delle mappe davvero grandi Devo dire Ok Ok Sento Sento che la musica è cambiata Però le guardie ci sono ancora Io ve lo dico Questo gioco ti trolla Sempre Questa è una guardia d'elite Paracadutista Perché vi ricordate quelle guardie d'elite Che noi affrontammo la volta scorsa La chiesa Quelle non erano niente In confronto a queste Proprio Erano Veramente Ridicola Eh Sì ma dove sono Cioè ok ci sta Io sono morto Però Va bene Eh Eh No T'ho visto Ah ma tu sei uno con le pistola normale Vaffanculo Stanno tutti sotto Ve lo dico io mo Allora qua è pieno Attenzione a quelli che arrivano da di sotto Che veramente sono Bastardi Voi morite Morite tutti Bastardi Vaffanculo i paracadutisti Dove cazzo è che devo andare Devo andare qua Devo andare qua Devo andare qua Prima che arrivino i paracadutisti Sbrigiamoci Abbiamo preso Il slozzo E ce ne andiamo Leviamo le tende Ciao cari Ciao cari Sciacia Le guardie Ce le siamo lasciate alle spalle Tutto fatto Perfetto Wow Veramente Applausi per me Perché veramente Boh E niente Siamo stati anche Abbiamo avuto anche il nostro Buon pizzico di culo Perché non abbiamo trovato Le guardie di sotto Però ci hanno anche loro Distrutto l'anno Più volte Quindi bene Anche questa è finita Spero che vi sia piaciuto A me no Quindi ok Lascerò un non mi piace Questo video Perché fa schifo Però non è finita qui Questo è soltanto L'inizio di questo gioco Si Perché non è finita qui